Oltre 4,3 milioni di tonnellate di merci e 350 mila container è quanto hanno movimentato i porti della Spezia di Marina di Carrara nel primo trimestre del 2022. Complessivamente sui due scali l'intermodalità mare-ferro è stata gestita con 2.148 treni e 32.300 vagoni, cifra che rappresenta all'incirca un terzo del traffico dei due scali. In percentuale il boom del trasporto ferroviario si è registrato soprattutto a Carrara con un più 86,7% dei treni, un 84,6% dei vagoni e un più 4% di Teo alla Spezia pari a 850 mila tonnellate di merci movimentate. Sempre nello scalo Spezzino aumenta il traffico container dello 0,7% con un'accelerata nel mese di marzo. Aumentano anche i servizi intermodali del 2,5% con 2.120 treni e 31.800 vagoni pari al più 3,8%. Ripresa anche per il settore passeggeri con 15 scalinave e 20.600 croceristi mentre a Carrara le crociere sono ripartite da aprile. Per Mario Sommariva presidente dell'autorità di sistema del Mar Ligure orientale i due porti sono punti di riferimento per aziende italiane ed estere. Stiamo aumentando l'efficienza logistica dei nostri porti ha detto riducendone sempre più l'impatto ambientale promuovendo occupazione qualificata. Lavoriamo anche in prospettiva della nostra zona logistica semplificata che una volta insediata ha aggiunto comprenderà importanti aree logistiche da Santo Stefano Magra alla provincia di Parma mettendo i nostri fiscali al servizio di un importante e complesso sistema economico multiregionale ha concluso il presidente dell'autorità di sistema.